Buonasera e benvenuti. Vi trovate all'interno di un carcere di massima sicurezza. Siete stati selezionati e trasportati qui ciascuno dalle vostre precedenti cese. Secondo la sentenza dei vostri processi, siete stati tutti condannati alla pena di morte per mezzo sedia elettrica. E questa per voi non è una novità. Tuttavia, uno soltanto di voi si potrà salvare. Sotto le vostre dita potrete trovare una tastiera con la quale potrete digitare il codice del condannato che desiderate eliminare. Il timer parte. Ora. Mi dispiace. No, no. No, no. 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 Siete dei bastardi. Non ci crede per quello che avete fatto. Grazie a tutti.